Silvia Cecchinelli, una autorev che si è rimessa in carregiata senza dubbio? Sì, per fortuna ci siamo riprese, abbiamo avuto una brutta sconfitta in Coppa Liguria, anche se con una squadra molto forte. Dopo la sconfitta ci siamo risvegliate un attimino, abbiamo giocato contro Lavagna, che comunque anche lei è una squadra al quarto posto in classifica, quindi una bella squadra. Siamo andate bene, eravamo molto unite tra di noi, volevamo vincere e così è stato. Bene, direi che era proprio auspicabile questo perché ora il prossimo impegno che arriva, l'impegno a venire è uno di quelli che ha 18 carati. Esatto, la prossima partita abbiamo il Santa Sabina, l'unica sconfitta di questo campionato, oltretutto in casa, purtroppo o per fortuna. Io sono propositiva, andremo ancora più cariche di questo sabato, con la speranza di portare a casa tre punti pieni e andare ancora più in alto in classifica. Ecco.